Allora mister, quanti chilometri hai fatto oggi sulla parte opposta perché hai risqualificato? Eh, parecchi dai, è stata una partita tirata, intensa, vedo se la vittoria sia strameritata, abbiamo incontrato una buona squadra che si è chiusa bene, però devo dire che sono contento della prestazione perché abbiamo fatto davvero una buona partita, non vale che abbiamo trovato questo gol su questa bellissima giocata di Barsotti e l'altrettanto bellissimo tiro al volo di granito e quindi dai, sono contento perché non è una partita facile e quindi abbiamo chiuso questo girone d'andata bene, ora c'è da finire bene domenica prossima ancora qui in casa per finire l'anno in maniera buona insomma. Ecco, ho detto bene, è finito il girone d'andata, si è guadagnato altri due punti sul Castelnuovo, che analisi fai di questo girone d'andata? Il girone d'andata è che ci sono queste, che sono tutte squadre organizzate, che comunque sia per noi sono tutte partite complicate perché finché non riesci a sbloccarle tutte le squadre ci aspettano, stanno tutti dietro e quindi diventa difficile, la nostra bravura credo per i tanti punti che abbiamo fatto sia proprio questa, al di là della qualità che abbiamo rispetto agli altri sicuramente migliore, però nel calcio non c'è mai niente scontato e quindi ripeto, le difficoltà che abbiamo sono proprio quelle di riuscire a scardinare difese toste e quindi ci sono tre squadre in questo momento che si stanno lottando questo campionato, noi Pietrasanta che non sta mollando e Castelnuovo e quindi penso che sarà un giorno di ritorno ancora su questa falsa riga, però dai, questa poi era una partita complicata anche perché era la terza della settimana dopo la partita di Coppa, anche lì siamo in finale quindi io credo che di più a questi ragazzi non si possa chiedere, si stanno allenando benissimo tutte le settimane con una brengazione, con voglia, insomma poi questa la portiamo anche in campo la domenica ed è quella che ci fa fare la differenza. Oggi avevi tutti disponibili Pieroni Tamberi, Brega Granito, ha creato molto ma dall'altra parte una difesa molto ben organizzata che ci ha voluto solo un'invenzione di Granito per vincere questa partita. Sì, nel pieno tempo siamo arrivati tantissime volte nei pressi dell'area di rigore, abbiamo avuto tante palle sporche, non siamo riusciti a buttarla dentro e poi ripeto ci vogliono anche le giocate dei giocatori importanti come è stato quello proprio l'assist di Barsotti e il tiro al volo di Granito e quindi il nostro campionato ripeto è questo qui e sappiamo che non è facile perché tutti quanti danno tutto per scontato quando poi in realtà non lo è. Noi bisogna sudarcelo questo campionato come stiamo facendo, lottando su ogni pallone come fanno gli altri e quindi ripeto se noi oltre alla bravura tecnica che abbiamo ci mettiamo anche queste cose vuol dire che siamo sulla strada giusta.